Contatto visivo sconosciuto Posizione 232 a 4 miglia e mezza Fa parte dell'esercitazione Se fosse così, esagero Ma che cos'è? Voglio che tutti gli aerei su questa piattaforma si alzino in volo Nuovo nemico! Il radar è cieco Moriremo, vedrai! Sì, moriremo tutti Ma non oggi Quando parli ti ascolti Boom Martelship Dal 13 aprile